Con l'arrivo del paesologo Franco Arminio, giovedì 19 maggio, sarà consegnato il premio La Tiara. A San Pietro Altanagro, da diversi anni, viene proposta l'iniziativa che premia chi si impegna a dare valore al proprio territorio attraverso iniziative di carattere sociale, culturale o sportivo. L'evento, rientrante nel più ampio progetto di valorizzazione Grotta Briganti e Cacio, che vede insieme i comuni di Monte San Giacomo, ente capofila San Pietro Altanagro e Casa Albuono, cofinanziato con fondi POC Campania 2014-2020, era stato rinviato a causa del diffondersi nuovamente dei contagi da Covid. Il nuovo appuntamento si terrà quindi giovedì prossimo, 19 maggio, alle ore 18.30, presso la Sala Convegni del Comune di San Pietro Altanagro. La consegna del premio La Tiara, promossa dalla Proloco di San Pietro Altanagro, rappresenta il prosieguo di un progetto avviato da diversi anni dall'attuale Presidente del Consiglio Comunale Antonio Pagliarulo, che aveva deciso di istituire il premio denominato San Petrese dell'anno al fine di mettere in risalto il valore e il lavoro svolto da chi, con orgoglio e passione, si era adoperato per lo sviluppo di San Pietro Altanagro e a favore di tutta la comunità. Da qui l'idea si è sviluppata attraverso il premio La Tiara, che giovedì prossimo sarà consegnato nella terza edizione a chi si sarà adoperato a favore del territorio e di San Pietro Altanagro. Non a caso è stato scelto come simbolo del premio proprio il simbolo di San Pietro, ossia La Tiara, il copricapo papale paragonabile alle corone dei re e utilizzato dal Papa a partire dal Medioevo e fino alla metà del secolo scorso. Il premio La Tiara, spiegano dalla Proloco organizzatrice dell'evento, offre un contributo fattivo alla promozione del nostro territorio, che pur rimanendo costantemente attento all'analisi dei problemi e delle questioni che frenano o rallentano lo sviluppo, intende sottolineare ed esaltare le potenzialità di coloro che lo abitano e lo vivono, i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti in campo sociale, economico, culturale e sportivo, il desiderio di cambiamento espresso dalle giovani generazioni. Fornisce, spiegano, un riconoscimento formale a coloro che si sono distinti in vari ambiti per le loro attività, nonché a progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali che appaiono dotati di elementi significativi di originalità, di crescita, di unione e appartenenza. Grazie.